Sui suicidi in carcere servono interventi urgenti, lo ha detto nei giorni scorsi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In Italia nel 2024 sono stati 55 detenuti che si sono suicidati e 4 gli agenti della Polizia Penitenziaria. È evidente che questi dati che sono in crescita in maniera impressionante hanno a che fare con la condizione anche dei detenuti. In Italia purtroppo le carceri non sono adeguate e noi da questo punto di vista per le funzioni che svolgiamo, qui al mio fianco abbiamo la garante dei diritti dei detenuti, riteniamo che occorra risvegliare le coscienze e fare in modo che il legislatore possa farsi carico di questa criticità affinché chi deve pagare la propria pena lo possa fare all'interno di un contesto adeguato, all'interno di un contesto civile. Se ci sono appunto tanti suicidi vuol dire che la funzione rieducativa del carcere non c'è? Un appello forte e sentito a cui partecipa anche la provincia di Brindisi assieme alla Conferenza Nazionale dei Garanti un appello sul contrasto delle situazioni che creano il suicidio. Stranamente questi casi accadono o all'ingresso nelle strutture o proprio a ridosso del fine pena. Noi qui a Brindisi abbiamo avviato, grazie insomma alla provincia di Brindisi che è guidata dal Presidente, un'attenzione focale qui sul territorio che ci ha fornito anche la possibilità di rientrare in una conferenza che è nazionale per puntare quella che è l'attenzione non soltanto sui diritti umani ma anche creare un linguaggio comune fra sanità, dipendenze e la tutela di quello che è il diritto umano. Perché sappiamo oggi la giurisprudenza deve correre veloce per tutelare quelli che sono i diritti e soprattutto i servizi all'interno delle nostre strutture. Sappiamo bene che c'è anche un sottodimensionamento delle unità professionali oltre che di quelle della Polizia Penitenziaria. Per questo abbiamo anche ascoltato il Capodappa a Roma, abbiamo incontrato il Ministro della Giustizia, il Garante Nazionale, proprio per fare in modo che la provincia di Brindisi che ha ben diverse strutture e ricordiamo non soltanto la casa circondariale ma la è anche il C.P.R.